Il pietro è la pietra del pietro! Non è finito! E' un momento su! E' un'altra pietra! La traiettoria ha graffiato! La nostra scuola ha la trinta e la prima scuola! E' un po' di venire qua! Ha parato una colpacciata! Non è venuto! E' qua! Pega attraverso! E' lì, è lì, è lì. E' 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 lì. E' lì, è lì. E' 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 lì.